Sono le 18, uffici del Consolato della Turchia di Milano sono chiusi, mentre un presidio ARCI-CGL di Fondazione Comunista, SEL, Camera del Lavoro e Sinistra, Per Pisa Pia, staziona davanti al palazzo per offrire solidarietà ai manifestanti e ai movimenti di GESPAR. Le drammatiche notizie che giungono dalla Turchia, la feroce repressione messa in atto dal Governo contro i cittadini che manifestano pacificamente, ci impongono di rompere il silenzio per chiedere la fine delle violenze contro i manifestanti, la fine degli arresti di massa e il rilascio di tutti i manifestanti arrestati e la garanzia che contro di loro non vengano avviati procedimenti amministrativi o giudiziari, il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione, di manifestazione e assemblea per tutti i cittadini, inoltre la garanzia della libertà di stampa e di espressione per giornalisti, bloggers, attivisti dei social media. In mattinata, domani, una delegazione autorizzata chiederà un incontro al Consulio Generale Turco per esprimere la nostra condanna della politica repressiva messa in atto dalle autorità di Ancara nei confronti dei loro cittadini. per raccogliere le firme, ma abbiamo poi preparato questo presidio in modo molto veloce insieme a Darci, a Sera, Milano e Lombardia, a Rifondazione Milano e Lombardia. Abbiamo preferito però andare incontro alla possibilità di non avere qui le masse, ma però di segnare in modo preciso che a Milano le vicende che riguardano la Turchia e Istanbul trovano un'opposizione nei milanesi, nei milanesi democratici. E quindi abbiamo preferito comunque schivare, andare incontro al fatto di non fare una grande manifestazione, ma di dare un segnale significativo. Questo vuol dire che per esempio già da domani mattina noi invieremo una richiesta a partire dalle organizzazioni che questa sera hanno organizzato questo presidio, di un incontro ufficiale, perché ci sia un contatto anche fisico nei confronti del Consul e dove noi portiamo le nostre rivendicazioni che sono racchiuse nel comunicato di oggi e nell'appello. La cosa che stiamo però anche mettendo in campo sono una serie di iniziative, ci sono realtà che hanno rapporti con giovani cittadini turchi a Milano con i quali fare un ragionamento che non sia solo esclusivamente la protesta ma anche l'approfondimento e il conoscere sempre di più le cose come si stanno sviluppando. Per esempio colgo la presenza di Pagani che rappresenta l'associazione degli avvocati democratici per dire che tra ieri e oggi sono stati arrestati 75 avvocati al tribunale di Istanbul e oggi gli avvocati sono in prima e oggi va anche detto che c'è stata una manifestazione all'interno del Palazzo di Giustizia. Quindi vanno anche conosciuti gli elementi di gravità che si stanno sviluppando. Oggi c'è stata una manifestazione di 2000 avvocati e quindi c'è una situazione altamente in movimento. L'impegno che ci possiamo prendere è quella di organizzare un momento pubblico magari di riflessione con i ragazzi che si diceva prima ma anche con persone che possono portare una testimonianza delle questioni e dei problemi e dei grossi problemi che si stanno verificando. Noi come Camera del Lavoro mettiamo a disposizione nel nostro salone per un'iniziativa di questo tipo che potremmo organizzare nei prossimi giorni tenendo chiaramente sempre e monitorando l'evolversi della situazione in Turchia e a Istanbul. Quindi il prossimo appuntamento è domani mattina, noi porteremo qui una richiesta ufficiale di incontri. Lei è una delle ragazze che ha organizzato la manifestazione della comunità e dei giovani turchi in l'altra settimana. Vuoi dire qualcosa? Dici qualcosa. L'unica cosa che posso dire? Se stai sul gradino guadagli. Parla forte. L'unica cosa che posso dire? Grazie davvero, grazie dal mio cuore per essere qui con noi. Grazie che anche per voi è importante tutte queste cose che noi resistiamo e vogliamo perché alle fine parliamo dei diritti civili fondamentali. Quindi grazie per essere con noi e grazie questa solidarietà. E se possiamo creare qualcosa anche qui con voi, per me e per noi già un movimento che è cresciuto e ora sta per grandire di più e di più. Quindi grazie per essere qui. Grazie.